Ciao a tutti! Oggi sono qua con un video extra super 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 speciale Infatti sono qua per annunciarvi una readalong Wow! Mai fatto qua sul canale? Non vedo l'ora! Arianna del canale, il figlio di Arianna, Alessia di Books Lovers Army e Giorgia di Geriz hanno organizzato una readalong luglio scorso sulla serie di libri Omicidi per Signorine di Robbie Stevens Io ho partecipato diciamo da aspettatrice perché mi incuriosiva particolarmente il libro si tratta di un romanzo per giovani, giallo, misteri quindi ci sono omicidi e tanti misteri da risolvere inoltre era un periodo un po' triste della mia vita quindi mi piaceva l'idea di partecipare a qualcosa di così coinvolgente e quindi ho partecipato più che volentieri Loro poi hanno proseguito con la serie a novembre leggendo In Viaggio con il Morto, Arsenic Forti in inglese e adesso mi hanno aggiunto al gruppo ci sarò anche io per leggere il terzo libro di questa serie First Class Murder, Assassinio in prima classe sono molto entusiasta perché non ho mai partecipato così attivamente a una readalong ma soprattutto mi fa molto ma molto piacere che mi abbiano inserita nel gruppo, che mi abbiano chiesto se volessi io partecipare insomma è stato molto bello ma ora qualche informazione tecnica quando leggeremo questo libro? dal 16 al 22 aprile quindi segnatelo in agenda iniziate ad armarvi a recuperare il libro in inglese o in italiano come meglio preferite e dove commenteremo la lettura? qua sotto in descrizione troverete il link al gruppo Goodreads che è stato creato da Arianna, Alessia e Giorgia dove poter commentare passo dopo passo il libro questa serie misteri è divisa per parti quindi ci saranno diversi topic in modo da non creare spoiler da non fare spoiler a chi magari è un po' più indietro con la lettura inoltre tutte noi commenteremo anche sui nostri vari social quindi sempre in descrizione mi raccomando troverete non soltanto il link ai loro canali di Youtube ma anche di Instagram, Facebook, insomma ai loro vari social al termine poi di questa readalong come è successo precedentemente ci sarà una live su uno dei nostri canali per commentare live per l'appunto insieme a voi la lettura ci sarà inoltre un giveaway al termine di questa readalong per vincere il volume successivo di questa serie in inglese o in italiano a seconda delle preferenze del vincitore le regole per partecipare sono semplicissime innanzitutto essere iscritti ai nostri canali seguirci anche su Instagram commentare uno di questi video dicendoci qual è stato il vostro personaggio preferito e per quale motivo punto bonus andrà chi sarà attivo anche sul gruppo Goodreads ovviamente troverete i link dei canali Instagram e del gruppo Goodreads qua sotto in descrizione se avete per caso dei nick differenti su Youtube, Instagram e Goodreads magari fatecelo sapere nel vostro commento al video così riusciremo a rintracciarvi ringrazio tantissimo Arianna, Alessia e Giorgio per avermi coinvolta in questo progetto perché mi ha entusiasmato tantissimo e non vedo l'ora di leggere insieme a voi questo libro qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili tutte le informazioni che potrebbero servirvi e niente, spero che parteciperete in tanti io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao!